Se volete sostituire la vostra vecchia caldaia a metano, approfittate, chiedete un preventivo risparmiando il 30% sul consumo e approfittate delle detrazioni fiscali dal 50 al 65%. Inoltre, la termoidraulica Ponte del Diavolo vi regala l'estensione di garanzia fino a 6 anni e se volete ristrutturare il vostro bagno, lo facciamo noi, vi regaliamo un condizionatore inverter estate-inverno, termoidraulica Ponte del Diavolo, DCT, assistenza tecnica 24 ore su 24. Grazie.